allora ragazzi lasciamo stare i social per un attimo partiamo dalla base qual è da sempre l'obiettivo delle aziende degli imprenditori di chi vende offre servizi catturare l'attenzione del potenziale cliente e per farlo bisogna semplicemente essere dove i suoi occhi puntano questo gioco in questo periodo storico qual è il mezzo più veloce ed efficace per raggiungere cos'è che ormai utilizziamo tutti quanti quotidianamente dove è possibile condividere video foto e infografiche con chi vogliamo i social sono solo il miglior mezzo di comunicazione attuale fra azienda e cliente magari fra 10-15 anni verranno sostituiti da altri strumenti ma il nostro obiettivo come imprenditori rimarrà sempre lo stesso apparire agli occhi del potenziale cliente poi il come sarà in base al mercato e agli strumenti disponibili e aspetta solo noi decidere se vogliamo sfruttare al 100% questi strumenti per raggiungere e convertire i potenziali clienti in clienti effettivi quindi se vuoi far crescere la tua azienda oggi la presenza online è la soluzione migliore io sono qui per aiutarti a svilupparla al meglio passo dopo passo chiama mi